L'amore di Amleto per Ofelia è vero e sincero, violento anzi, ma è amore di intellettuale. Può essere cancellato per forza di intelletto. Amleto sa di essere ormai agganciato a un destino tragico, sa che Ofelia verrebbe implicata in esso, ma soprattutto che gli sarebbe d'impaccio e se ne libera sia pure con dolore nella famosa scena muta di cui parla Ofelia e che era fra parentesi una delle poche cose buone del film di Oliver. Nota tale scena è scambiata da Polonio e dagli altri per uno e il principale degli atti di follia di Amleto ed è invece l'unica in cui egli ha agito coscientemente e senza finzione. Comunque quando lo rincontriamo Amleto è un uomo felice, si sta godendo questa fase, la fase dell'intrigo, del gioco psicologico, dello scandaglio, della sospensione, della provvisorietà, con tutto il suo edonismo di intellettuale impotente. Ecco perché così bene gli riesce il motteggiare con Polonio e con gli altri. Cominciano però le disillusioni. Rosenkratz e Gildestern, commoventissima scena dell'amicizia delusa, tradita, e Amleto si fa più amaro, il suo motteggiare più aspro. Ingresso di comici. Il monologo recitato dell'attore è una frustata di rimprovero, di incitamento a troncare il piacere dell'attesa, ma fondamentale il monologo di Ecuba. Non è affatto bastato sul disgusto per se stesso e la propria inazione, atteggiamento che troveremo nella seconda parte, ma è una fitta, capziosa indagine che Amleto fa di se stesso, decidendo alla fine che ha ragione di aspettare ancora e pretendere un'altra prova. Tale è la ripugnanza all'azione, tale è l'agilità con cui il suo cervello gli tura le falle della coscienza. Per me, assumendo che questa progressione di Amleto da noi scelta è la giusta, sta qui il più chiaro errore di Shakespeare, un errore di graduazione, un anticipare eccessivamente la piena dell'autodisgusto in Amleto. Forzeremo dunque ai nostri scopi il monologo di Ecuba che, come ho gioiosamente scoperto e provato, si presta a un meraviglioso doppio dialogo interno. Mi ricorda Riccardo III, in Altro Clima, due voci, A e B. A è la voce dell'azione, diciamo, B quella dell'inazione, del pensiero che non si scalda a morti di padre, che vuole altro, altri più profondi e rifatti legami, che hanno tempo e pazienza di natura superiore. Le battute sono divise così, a partire dalla frase «Non sono un vigliacco», la prima pagina del monologo è l'impostazione del dibattito. «Non sono un vigliacco», B. Chi mi ha per chi ha per le pieghe di Cristo lo avrei meritato, colomba, B. E i torti non mi si fanno fiele. Che ci devo fare se sono fatto così? Qual è? Dov'è una razionale necessità di vendicarsi dell'offesa, di riscattare un padre ucciso? Eccetera, eccetera. Per favore, conservami questa lunga lettera di appunti su Amleto. Non credo mi servirà più, ma non si sa mai. E ti prego, non parlare con nessuno delle mie né delle tue idee a proposito di nessun lavoro. Ti abbraccio. Vittorio.